Usando l'equazione qui in alto a sinistra ho stimato che dobbiamo vincere almeno 99 partite per arrivare alla postseason. Dobbiamo segnare almeno 814 punti per vincere queste partite e concedere non più di 645 punti. Il codice integra tutte le informazioni che abbiamo per stimare i giocatori. Lo scopo è ridurre tutto a una singola cifra. Leggendo le statistiche nel nostro modo troveremo nei giocatori dei valori che nessun altro vede. Tra i 20.000 giocatori che vale la pena valutare credo ci sia una squadra da titolo di 25 giocatori che ci possiamo permettere perché chiunque altro nel mondo del baseball li sottovalga. Eccoci qua, ben trovati alle fonti Asset Management TV Week. Come abbiamo visto da questo piccolissimo pezzettino di Money Bell cercheremo naturalmente di trovare rendimento dove nessuno lo vede e soprattutto interpretare il mercato addocido. Subito il benvenuto appunto ai nostri ospiti di questa puntata Alessandro Arrighi, Head of Retail Distributors Italy Game e non soltanto anche Luca Chiarella Sales Director PicTay. Buon pomeriggio, ben trovati sulle fonti. Ciao, buon pomeriggio. Eccoci qua, innanzitutto chiedo un parere su questo pezzo che abbiamo visto e come bisogna interpretarlo sui mercati e cioè cercare rendimento dove nessuno appunto lo vede. A chi rivolge la domanda? A entrambi, prego Arrighi inizia lei. Cercare rendimento vuol dire capire come decorrerarsi dal mercato, come leggere l'indicazione, i segnali che il mercato dà, capire, avere la possibilità di avere un proprio modello di analisi in modo da cercare di trovare la qualità nelle aziende sottostanti al proprio settore d'attività e sfruttare quello che per noi è la gestione attiva al fine di creare un asset, una composizione, in questo caso parlavamo di squadre ma è esattamente questo, una squadra dei titoli che in qualche modo riescono a fare la differenza, a staccarsi, a discostarsi dalla media di mercato e quindi ad avere una capacità di tenuta e di proiezione sul medio lungo che è più efficiente rispetto al momentum che possiamo analizzare sul mercato. Quindi metodologia, capacità di estrarsi dalla massa e quindi dalle informazioni comuni per andare a cercare differenziazione, decorrelazione e riposizionamento sul mercato, capire attraverso l'analisi qualitativa anche del management qual è il valore aggiunto che il management può dare nei risultati e nell'applicazione del piano strategico di un'azienda e poi verificare la risposta di quel settore rispetto a un fabbisogno complessivo del mercato. Chiarella, naturalmente, lei è d'accordo? Qual è la sua interpretazione o anzi come bisogna interpretarlo sui mercati? Di base sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro, cercherei un punto di vista differente, nel senso che sui mercati finanziari la formula vincente non è sempre posizionarsi dove gli altri non sono posizionati, tutt'altro, siccome la regola aurea del mondo finanziario è la più semplice di tutti, ovvero se c'è più domanda e meno offerta i prezzi salgono, viceversa i prezzi scendono, l'idea è individuare quelle che possono essere dei cambiamenti strutturali per poi cavalcarli e se tutti la pensano allo stesso modo quella cosa si realizza, perché? Perché c'è una comunione di idee, una comunione di flussi e i prezzi di conseguenza salgono. Questa è la prima considerazione che voglio fare, ne voglio fare una seconda a proposito del gioco di squadra e credo che questo sia l'obiettivo finale di chi si occupa di gestione del risparmio, di costruzione di portafogli, non è quella di indovinare, avere la sfera di cristallo o avere un modello matematico che ti trovi il migliore giocatore di football sottovalutato, bensì è trovare l'amalgama giusta esattamente come una squadra di football, di calcio o di qualunque altro sport che possa convivere al meglio, questo lo vediamo spesso, no no sport? Sulla carta non hai la squadra favorita eppure poi vinci le partite, perché? Perché la gestione condivisa dei giocatori porta a un risultato migliore, quindi la mia formula è la seguente, la costruzione di un portafoglio non deve essere figlia di operazioni da sfera di cristallo, bensì l'obiettivo finale deve essere quello di costruire un portafoglio resiliente nei diversi scenari e questo si ottiene combinando al meglio i diversi ingredienti. Ecco, adesso vorrei fare il punto, visto che questa tavola rotonda è dedicata un po' agli asse tematici che sono estremamente interessanti, specie nell'ambiente in cui ci troviamo, Arrighi vorrei iniziare con lei per fare il punto su come sono cambiati i consumatori, se prendiamo in esame un periodo temporale degli ultimi dieci anni, come sono cambiati gli stili di vita dei consumatori e naturalmente l'offerta dei beni da parte delle aziende, questo fra le altre cose è anche un fenomeno che abbiamo visto ancora prima della pandemia, cioè prima del 2020, post pandemia, diciamo un fenomeno ancora più marcato. Dunque ci spieghi lei come interpreta questo arco temporale dieci anni? Sicuramente se risaliamo al 2012 e guardiamo quello che è successo anche prima della pandemia, sicuramente ci sono stati dei grossi stravolgimenti di usi e consumi, abitudini da parte dei consumatori e da parte anche delle aziende che in qualche modo si sono adattate o a volte hanno anche provocato i cambiamenti. Pensiamo alcuni nomi come Amazon, come Apple, come Netflix, per parlare delle cose che ci toccano un po' tutti nel quotidiano, parliamo dell'esplosione dell'ibrido e la fine del motore diesel nei prossimi anni, così come ovviamente poi tutto quello che è stato accelerato dalla pandemia. Sicuramente nell'insieme ci sono i settori che hanno risentito in modo positivo, altre in modo negativo, pensiamo per esempio al crollo dell'intrattenimento, i giochi, i libri, tutto l'on video che in qualche modo sono crollati negli ultimi dieci anni per dar spazio più all'intrattenimento virtuale, i social, le piattaforme di gioco che siano quelle online di quelle più, diciamo come per esempio le conosciute PlayStation e quant'altro, non volevo fare troppi nomi, si è passato anche a un concetto di non benessere ma belessere, quindi tutto il mondo dell'estetica, tutto il mondo dell'apparire, l'evoluzione dei settori come la cosmesi, come la cura delle persone, il fitness, l'home fitness, tutti i settori che sono esplosi, spinti anche dai fenomeni di massa come i social media che in qualche modo sono andati a porre l'immagine della persona in primo piano rispetto a altre tendenze, dove si sono spostati i consumi, per esempio la morte di piccoli centri storici delle piccole città a favore degli outlet, a favore dell'accorpamento dei grandi centri commerciali e quindi da lì poi con la pandemia l'esplosione dell'e-commerce e quindi il trasferimento dallo spostamento verso un luogo d'incontro fisico allo spostamento verso piattaforme di scambio commerciale, basta ricordare il precursore che è eBay, poi il lancio e l'esplosione di siti come Alibaba e Amazon sull'e-commerce e altri fenomeni che sicuramente sono cambiati negli anni, per esempio il mondo della cultura, i musei, l'archeologia hanno tenuto perché spesso legati al fatto degli spostamenti, legati al fatto della curiosità, mentre invece molti settori della cultura, purtroppo il cinema stesso nelle sale, piuttosto che i teatri hanno risentito negli ultimi dieci anni di questa evoluzione. Quindi sicuramente come diceva anche Luca, il fatto di capire quali sono i trend, di capire dove sta andando il mercato, non solo quelli finanziari, ma soprattutto quello della quotidianità, dell'ispirazione e le tendenze che vengono recepite in tutto il mondo, perché oggi siamo ovviamente sempre nell'optica della globalizzazione, forse quello che è cambiato è il fatto di aver pensato che ci fosse un'uniformità vincente nel essere tutti uguali, ad arrivare invece a rivalorizzare le peculiarità, le specificità del singolo paese, della singola regione o della singola cultura. Quindi questo mix diventa un'opportunità qualitativa nella quale andare a posizionarsi per creare e rispondere ai bisogni attraverso la scelta delle aziende che sono leader di questi settori. Ecco, invece Chiarella vorrei fare il punto proprio insieme a lei su come sono cambiati i consumi alimentari e soprattutto le tendenze, non peraltro, ma perché gran parte del popolo italiano, e non soltanto, anzi è un trend a livello globale, cerca di essere un po' più sano in termini di scelte alimentari. Ci può descrivere appunto i cambiamenti per quanto riguarda la nutrizione, quali sono i trend a guardare per appunto cogliere le opportunità? Ecco, la premessa che vorrei fare arriva dalla conclusione, cioè noi rappresentiamo delle case di gestione, quindi la verità è che lo studio dei cambiamenti strutturali è funzionale alla ricerca di opportunità di investimento. Nello specifico in PICTAE lo facciamo in modo scientifico da una trentina d'anni, che cosa significa? Significa che ci avvaliamo di istituti scientifici, come ad esempio l'Università di Oxford, per individuare i cambiamenti strutturali della società, quelli che quindi avranno impatto sulle nostre vite. E perché facciamo questo? Per poi trovare le migliori opportunità di investimento, le migliori aziende che possono avere successo in futuro, perché operanti in questi settori che poi sottendono ai megatrend, ai cambiamenti strutturali. A tal proposito, io credo che il cambiamento più evidente a tutti, quello più noto, più chiaro, sia quello della sostenibilità. Tutti parlano di sostenibilità e se io adesso scendessi per strada e andassi da una persona, affermassi e dicessi, parliamo di sostenibilità, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Risposta al 100% energia, transizione energetica, energie rinnovabili. Magari qualcuno mi tira fuori anche la bolletta del gas. In realtà c'è un tema a proposito di sostenibilità che è assolutamente fuori dai radar degli investitori, ma è decisamente importante. Ed è proprio tutto quello dell'agricoltura, della catena alimentare, e dello stile di vita sano, come è stato detto correttamente. Perché è così centrale nel tema della sostenibilità? Perché un terzo delle emissioni su scala globale, un terzo delle emissioni di CO2 su scala globale, vengono dal mondo dell'agricoltura. Parallelamente, il numero da ricordare è sempre lo stesso, che su un terzo del cibo viene sprecato, quando, e questa è una dialettica estremamente utilizzata anche a livello europeo, from farm to fork, che vuol dire dalla produzione al consumo. E quindi lo spreco nella catena alimentare è trasversale, più o meno il 40% dello spreco di cibo avviene durante la produzione, un 20-20% durante il trasporto e un ulteriore 40% di spreco avviene dai frigoriferi, dai ristoranti, nei supermercati o nelle nostre case. Questo è insostenibile e oggi l'agricoltura, che è uno dei settori più antichi al mondo, sta subendo una rivoluzione, una rivoluzione mai vista prima, grazie a chi? Alla tecnologia che interviene trasversalmente in tutta la catena. Allora, se penso ad esempio alla produzione, e per non annoiare faccio degli esempi semplicissimi, chiari e tangibili. Per quanto riguarda la produzione, ormai ci sono dei sistemi satellitari di monitoraggio, non è più l'agricoltura dei campi del Medioevo, l'agricoltura è scientificamente controllata, proprio per far produrre al meglio e per far efficientare al meglio le produzioni dei campi. Questo viene fatto, ad esempio, mettendo dei sensori all'interno dei trattori che poi gestiscono la terra stessa. Per quanto riguarda il trasporto, beh, fino a 300 anni fa non c'erano i frigoriferi. E cosa si faceva? Si andava nei laghi del nord, si tagliavano blocchi di ghiaccio, si riportavano in città e venivano messi in dei magazzini. Ecco, più o meno con l'agricoltura sta funzionando allo stesso modo, non si può pensare di avere vaste cultivazioni lontanissime dai centri di utilizzo del cibo stesso. E quindi sta nascendo tutto il segmento dell'agricoltura verticale che permette di coltivare in un ambiente protetto, in un ambiente sicuro, in un ambiente controllato. E tutto ciò evita lo spreco legato alla logistica. Ed infine, a proposito di cibo, probabilmente in questo segmento c'è la maggior sensibilizzazione, perché l'80% dei costi in ambito salute di uno Stato avvengono sulle terapie. È impensabile una cosa del genere. Gli Stati sono estremamente sensibilizzati alla prevenzione di tutte le malattie derivanti dal cibo, che sono la principale fonte di malattia al mondo. Allora dobbiamo migliorare il nostro ecosistema alimentare e per farlo dobbiamo riequilibrare la nostra alimentazione, chiaramente mangiando più frutta e verdura come vorrebbe l'OMS a favore di zuccheri e sale. Questo scompenso viene colmato dalla biologia, che oggi investe nei microrganismi. Mi spiego e chiedo scusa se sono andato un po' lungo. L'agricoltura di una volta partiva dai macrorganismi, quindi noi prendevamo ancora oggi animali o piante. L'idea è che si possa invece partire dai microrganismi, dalle molecole per creare del cibo che sia compatibile con la nostra alimentazione tradizionale e che lo completi a livello di valori nutrizionali. Sembra fantascienza? No, è realtà. Esiste già ed esistono ristoranti che lo fanno in base al fabbisogno alimentare del singolo. Molto interessante il punto sugli alimentari e soprattutto il ritorno nel passato. Invece con Righi vorrei toccare il punto turismo, soprattutto adesso che si spera che questa sia alla fine della pandemia o almeno la parte peggiore dovrebbe essere dietro le nostre spalle. Almeno si spera, come detto, a questo proposito naturalmente tutti torneremo a viaggiare e probabilmente il settore del turismo potrebbe essere un driver di crescita nei prossimi mesi. Anzi, potrebbe essere un driver di crescita nei prossimi mesi, secondo voi, a Righi? Lo sappiamo tutti che insieme alla cultura il turismo è stato il settore più colpito dalla pandemia. Ora, la situazione geopolitica internazionale in atto in questo momento non aiuta a dare una data di ripresa effettiva del turismo, almeno per quanto riguarda il turismo globale, la capacità di viaggiare e di spostarsi. Sicuramente oggi c'è due aspetti, di differenziare il turismo domestico, locale, da quello internazionale. Quindi da questo punto di vista sicuramente l'Italia ha avuto una grandissima fortuna, la sua ricchezza principale, una delle sue ricchezze principali è sicuramente l'ospitalità, l'accoglienza e l'infrastruttura turistica dovuta anche a essere il paese con il più gran numero di siti dell'UNESCO e quindi di fortissima attrazione per l'estero a livello culturale, a livello ovviamente per quanto riguarda la nostra ricchezza geografica, alimentare, di culture che conosciamo bene, diversamente per gli altri paesi. Quindi sicuramente stiamo tutti aspettando, c'è stata una forte anche lamentela da parte del settore turistico per la mancanza di aiuto, di supporti, nei momenti più bui dei lockdown e quindi per il fatto di aver avuto un mancato guadagno, un volume di affari che era crollato drasticamente durante le due chiusure e durante tutto il fase della pandemia. Quindi c'è un'aspettativa di ripresa importante, si parla di incoming, quando si parla di turisti esteri che vengono in Italia, sicuramente quello che manca molto in questa fase è l'outgoing, cioè la capacità di andare verso l'estero. L'italiano è sempre stato un viaggiatore, un turista curioso nel spostarsi, nell'andare a scoprire altri paesi, ma anche lì sappiamo da sempre la capacità di molti paesi, di molti popoli, di molte nazioni di andare in giro per il mondo proprio come il retaggio storico. Mi viene da pensare ai vecchi paesi colonialisti che comunque hanno sempre dato un'impronta rivolta verso il viaggio, verso l'esterno. C'è sicuramente un'aspettativa molto forte del settore che è la spending revenge, l'abbiamo visto in queste prime fasi, anche se ancora non abbiamo riaperto tutti i varchi, ma il fatto di farsi del bene, di spendere un po' di più di quello che poteva essere la vacanza tradizionale, proprio come ricerca di beneficio dopo una frustrazione troppo lunga. Quindi c'è una grossa aspettativa attraverso i viaggi esperenziali, che può essere il viaggio culinare, il viaggio anche per il benessere, come parlavamo poc'anzi, ma anche il fatto di aver risparmiato molto, di non aver speso come ci eravamo abituati a farlo e quindi questa capacità di risparmio porterà magari a indirizzarsi verso un livello maggiore, a livello qualitativo, a livello di pacchetto, a livello di aspettativa, di gratificazione, che porterà sicuramente un forte boom, una forte spinta alla ripresa del settore del turismo in generale. Rimane poi il discorso del posizionamento delle varie aziende e quindi capire quali sono quei settori, quelle aziende, per esempio le catene alberghiere, piuttosto che il settore tradizionale del cibo, che in qualche modo sfrutteranno in pieno questa voglia di rivalsa dopo due anni, quasi oltre due anni di chiusura. Ecco, vorrei affrontare un altro argomento con Chiarella, a mio avviso molto, molto importante, anche perché si aggancia in maniera importante all'attualità, cioè la guerra in Ucraina, guerra iniziata a tutti gli effetti da parte della Russia e quindi andremo ad affrontare il comparto della difesa. Cambio di rota, annunciato già qualche giorno fa dalla Germania, spenderà tra il 3 e 5% del PIL in difesa e non soltanto oggi ha parlato anche Draghi dicendo che la difesa dovrebbe essere sostenuta a livello europeo, non soltanto ovviamente a livello singolo paese. E appunto il conflitto tra Ucraina e Russia ha portato alla ribalta il tema della sicurezza fisica all'interno delle città quotidianamente bombardate, ma anche l'informatica, perché questo aspetto è altrettanto importante. Ecco, Chiarella, quanto ritiene questi temi opportunità di investimento futura e soprattutto come cavalcarli? Rimaniamo sulla sicurezza ovviamente, ma anche sulla sicurezza informatica. Sì, non mi piace legarli chiaramente alle vicende politiche. Quando a livello di investimento dobbiamo scegliere un ambito, lo facciamo su delle direttrici strategiche di più lungo respiro, che anzi, come dire, volino alto e non siano impattati dal singolo evento politico pur drammatico come quello che stiamo vivendo negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Io credo che i temi sul tavolo a questo punto siano tre che si evincono dalla domanda. Il primo riguarda le città e lo vediamo in questi minuti che c'è un feroce attacco dalla Russia verso le principali città. Perché? Perché le città rappresentano il 2% della superficie terrestre, ma ospitano metà della popolazione mondiale. Prima parlavamo di sostenibilità, di emissioni. Ecco, da questo 2% della superficie terrestre ci sono il 75% delle emissioni globali e l'80% del prodotto interno lordo viene generato dalle città. E per questa ragione che i maggiori investimenti da parte di governi, anche privati, gravitano intorno allo sviluppo delle città. E qua mi ricollego a quello che ha detto Alessandro prima, che non diventano solamente un polo immobiliare, un polo di costruzione, bensì diventano un polo attrattivo per le esperienze delle persone. La pandemia, facendo un passo indietro, ci ha sottolineato come le relazioni umane siano importanti. L'esplosione della tecnologia crea distanze sociali. Cioè, che cosa succede nei social network? E poi spiego bene il collegamento tra quello che sto dicendo e il tema della sicurezza. Con i vari social network, col mondo di internet, accade che ognuno di noi si concentra nel suo orticello. Facciamo una prova. Andiamo su Google e scriviamo, che ne so, sci, montagna. Accade che da adesso alla prossima settimana su Google, su Facebook, su Instagram, ovunque mi escono pubblicità di alberghi in montagna, di piste da sci, di scarponi da sci e così via. Cioè, la tecnologia tende a concentrarti sempre sui soliti interessi e ad eliminare così quelli che vengono definiti i legami deboli. Cioè, tutta quella sorta di crescita culturale, esperienziale che ti viene dal contatto con le altre persone. Da qui l'importanza delle città e da qui la volontà per attualizzare il discorso da parte di Putin di concentrarsi sulle città. La crescita tecnologica ha come lato oscuro della mentaglia la crescita degli attacchi informatici. A tal proposito, sempre per contestualizzare con le notizie di questi giorni, Anonymous, l'avrete sentito i più al telegiornale, ha sferrato un attacco micidiale a molti siti governativi russi e da qui la necessità di sicurezza, crescente di sicurezza. Pensate che questo è un tema sul quale investiamo a partire dal 2006, e lo voglio declinare nei suoi tre aspetti principali. La sicurezza fisica, che chiaramente, auspicabilmente, non riguarda solamente un regime bellico, ma riguarda la crescita di attrezzature per la sicurezza personale. Penso ad esempio ai caschi, penso alle mascherine, penso alla sicurezza nei luoghi di lavoro, penso alla sicurezza anche nell'edilizia, nella costruzione immobiliare. e questa è la sicurezza personale. La sicurezza, definiamola così, aziendale, nella logistica, i processi produttivi, e qua faccio molto riferimento non solo ai morti sul lavoro, bensì a tutte le nuove direttive che la pandemia ha impostato, e quindi, se ci pensiamo, il Covid è partito da mercati alimentari non controllati, ed infine, quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, è sicurezza informatica. vi porto un aneddoto, qualche anno fa, esattamente era la fine del 2017, con una delle principali banche italiane, abbiamo affrontato la possibilità di integrare all'interno dei loro sistemi informatici una metodologia finanziaria che potesse favorire i consulenti nella diffusione e costruzione di portafogli. Ecco, per fare questo è stata fatta una due diligence stata fatta un'operazione di ricerca col dipartimento IT e ricordo distintamente che il costo totale dell'implementazione informatica era così diviso, 40% l'implementazione informatica stessa, 60% cosa vuol dire? Vuol dire che più del 100% del costo dell'implementazione informatica veniva destinato a che cosa? Alle operazioni da mettere in campo per la messa in sicurezza di quest'operazione all'interno dei sistemi esistenti. Ecco, credo che sulla sicurezza informatica si giochi la sfida di merito di credito e reputazionale delle aziende del futuro. Questo punto era estremamente importante anche, ripeto di nuovo, soprattutto agganciandoci all'attualità. Nel frattempo con Righi vorrei fare il punto sul comparto lusso e soprattutto considerando le pressioni inflazionistiche dovunque a questo punto sia in Europa che negli Stati Uniti ecco a suo avviso il comparto del lusso potrebbe risentire un impatto negativo. Secondo noi non più di tanto. Il comparto del lusso è un comparto che segue delle regole che sono a volte anche lontane dalle logiche del prezzo o alle logiche delle motivazioni di acquisto Luca faceva riferimento ai social faceva riferimento alla tecnologia ecco oggi ovviamente quando si parla di lusso non si parla solo di alta gioelleria alta moda ma si parla anche di tutto quello che sono i trend tutto quello che sono i simboli di posizionamento sociale e quindi anche qua parliamo di città parliamo di prezzi parliamo di posizionamento sociale da chi ha capacità di spesa e chi ha capacità di spesa il prezzo non è per forza un deterrente sicuramente l'inflazione per come la stiamo vivendo rimetterà in discussione molti acquisti perché se aumenterà il prezzo nel futuro si anticipano alcune spese ecco nell'ambito del lusso la motivazione è altra io se compro un orologio da 10.000 dollari o 10.000 euro non è per sapere che ore sono è perché voglio dare un segnale a livello o di auto o di autocompiacimento oppure di interesse perché sono appassionato ma soprattutto perché voglio dare un segnale a livello sociale quindi oggi il fatto che io debba pagare 10% in più o 15% in più il prezzo di un bene se quel bene è un must to have cioè fa parte di un catalogo un elenco di beni che a me mi permettono di dare un segnale al mercato a livello sociale a livello personale a livello di di auto compiacimento perché posso non ho il problema di arrivare a fine mese ma ho la volontà in qualche modo di esprimere un proprio stato a questo punto non c'è sensibilità al prezzo sappiamo che ci sono delle liste d'attesa molto lunghe per alcuni beni ci sono addirittura chi rivende dei coupon perché è stato selezionato dalla società dalla produttore del bene tra i clienti privilegiati quindi c'è un secondo mercato di oggetti che vengono in qualche modo rivendute ancora prima di possederli allo stesso modo ci sono delle strategie di orientamento dei consumi che fanno sì che alcuni brand non hanno problemi di dire quanto posso far pagare quel bene o piuttosto che quell'altro quindi sicuramente oggi ci sono anche una ci sono più domande che offerta e questo quindi è un'altra componente che va a sostenere il prezzo al di fuori del fattore inflattivo e tutto il mondo dei social tutto il mondo di faccio un esempio il 70% dei consumatori di beni lussi sono oggi giovani quindi sono i millennials e generazione Z quindi è un altro target di riferimento di consumatori al quale le aziende si devono dedicare c'è il tema della sostenibilità che oggi il prezzo di un bene deve essere anche legato alla catena produttiva quindi alla trasparenza nei mezzi di produzione quindi consumo meno ma voglio consumare meglio tutto questo fa sì che sicuramente rispetto ai beni di prima necessità rispetto al sattore energetico abbiamo sentito in questi giorni le paure di rialzo dei prezzi dell'energia ecco nell'ambito del lusso le dinamiche sono molto diverse le aziende non tutte ma le aziende del settore del lusso che oggi è molto più allargato sono aziende che hanno un pressing power quindi hanno una capacità di resilienza rispetto all'inflazione o rispetto al contesto generale che li permette di poter controllare in modo molto più efficiente il prezzo dei loro beni ecco sentale volevo semplicemente chiedere come aggiunta alla prima domanda come o meglio se ha notato un cambiamento in termini di consumatore stiamo parlando sempre del comparto del lusso assolutamente sì oggi vediamo sicuramente dei canali di vendita diversa per riportare al discorso del turismo non esiste più il turismo cinese almeno non c'è stato per la pandemia ma non c'è più nella logica di dire non ho più bisogno di venire nei paesi occidentali dove non ho i dazi doganali e quindi la merce costa meno in particolare i beni di lusso e quindi si associava il viaggio in Europa o in America negli Stati Uniti all'acquisto di beni di lusso l'85% dei consumatori dei clienti degli store fisici in Europa sui brand di lusso erano stranieri in particolare asiatici oggi l'online l'e-commerce molte società nell'ambito del lusso si sono attrezzate con delle piattaforme di vendita grazie alla pandemia cioè la pandemia ha accelerato il fenomeno dell'e-commerce anche sui beni di lusso e l'altro aspetto che sta cambiando notevolmente nel settore del lusso è la contaminazione quindi la contaminazione tra brand storici e nuovi trend di moda per esempio brand di articoli sportivi che si associano a brand storici dell'alta moda per creare nuove collezioni il fatto che oggi si utilizzano gli influencer per condizionare le tendenze di consumi dei giovani piuttosto che tutto il mondo virtuale per esempio il metaverso dove oggi molti aziende del lusso si stanno indirizzando su questo mondo virtuale per provare nuovi sbocchi di vendite ecco Chiarella invece con lei vorrei parlare della digitalizzazione che è stato sicuramente un tema importante soprattutto considerando il contesto pandemico delle ultime due anni quale secondo voi è l'evoluzione di questo trend bene mi collego a quello che ha detto Alessandro prima sottolineando che il concetto di digitalizzazione per l'appunto è quello di un trend e non è un settore un settore è un ben preciso numero di titoli chiaramente pensando a digitalizzazione il settore più affine spesso si ritiene sia la tecnologia non è così a livello globale la digitalizzazione è un trend che sostanzialmente è rappresentato dalla dematerializzazione dell'economia il fatto che sempre più ci sia uno sviluppo informatico e di conseguenza un mondo virtuale nel quale fare una serie di operazioni in serie di operazioni che certamente stanno in ambito tecnologico ma stanno anche bene nell'ambito dei consumi penso a tutti i metodi di pagamento stanno nell'ambito dei servizi stanno nell'ambito della salute penso alla telemedicina alla scuola a distanza dei ragazzi insomma abbiamo imparato ad apprendere a vederne la crescita all'intrattenimento alle piattaforme di streaming di film o di eventi sportivi questa è la digitalizzazione e quindi è agnostica dal punto di vista certamente geografico perché c'è tanto in Italia quanto in Germania quanto negli Stati Uniti in Cina e in Giappone quanto settoriale se devo buttare lo sguardo in avanti probabilmente il più grande trend che abbiamo sotto mano e sul quale noi personalmente abbiamo iniziato a investirci a parlarne in modo consistente quest'anno è certamente quello del metaverso che altro non è che un po' l'evoluzione naturale di questo processo tecnologico dove internet negli anni 90 altro non era che una sorta di piattaforma nel quale avevo accesso a delle informazioni questa si è trasformata nel tempo potendo caricare i contenuti nei diversi server che mi davano quest'opzione e che mi danno quest'opzione oggi come oggi penso ad esempio agli Instagram carico le foto piuttosto che Facebook posso caricare dei contenuti diversi Amazon le mail Whatsapp ecco tutti questi diversi contenuti non si parlano allora una visione che nasce da romanzi fantascientifici degli anni 90 ma in realtà si concretizza da ottobre dello scorso anno con Mark Zuckerberg che cambia il nome della sua azienda da Facebook a Meta identificando che cosa una vera e propria realtà virtuale dove la parola chiave è interoperabilità cioè l'idea che tutti questi contenitori che ho descritto possano parlare tra di loro in uno spazio virtuale e in questo spazio virtuale io posso avere accesso ad esempio attraverso un avatar che mi rappresenta attraverso un visore attraverso dei guantini e questa visione del futuro tecnologico e digitale è stata abbracciata da tutti i colossi del web faccio un esempio Microsoft ci è entrato a gamba tesa facendo un'acquisizione da 70 miliardi in questo inizio anno ha risposto Sony con un'altra da 4 miliardi non parliamo di Facebook che col trimestre scorso ci ha investito 10 miliardi per lo sviluppo del metaverso o Apple che a fine anno produrrà i loro propri visori ma nel frattempo ha dovuto alzare gli stipendi degli ingegneri informatici per stare dietro al passo dell'evoluzione tecnologica degli altri colossi che cosa dunque servirà al metaverso beh in questa realtà virtuale io potrò fare una serie di operazioni una riunione di lavoro potrò andare a farmi virtualmente una camminata sulla Senna con un mio amico che magari vive a Parigi piuttosto che potrò interscambiare dei dati potrò cambiare scambiare oggetti o comprare oggetti digitali e tutto il mondo del commercio sta guardando con sempre maggiore interesse il metaverso perché? perché questo permette di fare delle esperienze di acquisto più vicine a quella che è la realtà di ogni giorno ci sono chiaramente già degli eccessi penso alla squadra di calcio il Manchester City che ha dato accesso al suo stadio virtuale penso a Nike Adidas che hanno registrato il loro brand nel metaverso fino a penso a qualche stravagante miliardario che si è comprato uno yacht da 650 mila dollari sempre nel metaverso a Verratti il calciatore del Paris Saint Germain che si è comprato un'isola ma è chiaro che è una storia tutta da scrivere dove i più pessimisti vedono tassi come Bloomberg i più pessimisti vedono tassi di crescita annualizzati tra il 40 e il 50% da qua al 2025 Ecco parlando di di metaverso Arrighi vengo appunto da lei che di fatto è un vero e proprio mondo virtuale che ci stava descrivendo appunto il suo collega Chiarella e soprattutto ci stava descrivendo un po' tutte le attività che si possono fare ecco post pandemia perché ovviamente questo cambio di rotta da parte di Facebook nominando l'azienda Meta Platforms e il focus sul metaverso è accaduto proprio nel corso della pandemia cioè in un momento molto delicato in cui le persone magari questa attività non le potevano fare diciamo realmente ma piuttosto in un mondo tra virgolette virtuale anzi non tra virgolette a tutti gli effetti virtuali la tecnologia la tecnologia a suo avviso resterà un driver di investimento importante post pandemia post emergenza di stato che continua fra le altre cose in Italia e soprattutto quali sono le opportunità che questo nuovo mondo stiamo parlando del metaverso porta in sé soprattutto come si possono sfruttare queste opportunità che appunto porta con sé la risposta è ovviamente sì nel senso che la tecnologia continuerà a essere un motore di crescita e di evoluzione la nostra visione è proprio quella cioè di non andare a investire sulle aziende che o sui temi che fanno della tecnologia un punto d'arrivo ma d'arrivo ma bensì di trasformazione infatti nel nostro caso la priorità è data a settori come la salute come i trasporti come l'industria o come la formazione cioè la trasformazione del sapere questo per quale motivo perché ormai da più di sei anni statisticamente si è dimostrato che la macchina è più efficiente dell'uomo cioè la macchina commette meno errori dell'essere umano oggi siamo a un rapporto da uno a cinque quindi l'essere umano è cinque volte meno affidabile della macchina sull'esecuzione di alcune funzioni alcuni compiti questo ha portato quindi la maggior parte dell'azienda a rivedere il proprio modello di business spostando la struttura aziendale da un modello legato sulla forza lavoro umana a una struttura un modello di business legato alla tecnologia e quindi oggi qual è la benzina e quali sono i motori di questa trasformazione ovviamente lo sappiamo sono i blockchain i big data l'intelligenza artificiale i cloud e ovviamente la capacità e la velocità di trasmissione quindi attraverso questi mezzi questi strumenti oggi settori interi e modelli di crescita si stanno completamente rivoluzionando da lì la tecnologia diventa uno strumento di anticipazione e di progettazione molto importante nell'ambito del metaverso per cui Luca ha dato tantissime sfaccettature c'è un aspetto industriale molto importante c'è tutta la fase di progettazione per esempio la Boeing sta progettando il nuovo aereo esclusivamente in modo virtuale la possibilità di accorpare gruppi di progettazioni di studi tra di loro e di virtualmente vedere le conseguenze delle loro progettazioni considerando che il 70% degli errori nella finalizzazione di un progetto arriva proprio nella fase di studio quindi se attraverso il virtuale e questo non vale solo per Boeing ma vale un po' per tutte le aziende cioè se si può ricostruire o anticipare o vedere gli effetti dal punto di vista industriale di alcune realizzazioni di alcuni beni quando poi si arriva alla realizzazione concreta fisica si possono risparmiare ovviamente tante fasi e tanti soldi ma soprattutto evitare che alcuni progetti falliscano ancora prima di essere realizzati l'altro aspetto invece che va che può diventare una problematica soprattutto dal punto di vista sociale e dal punto di vista psicologico è proprio la trasposizione nel metaverso cioè il fatto che molte persone si stanno annullando socialmente nella vita reale per ricrearsi un mondo per loro perfetto cioè spendendo in un avatar in una rappresentazione di se stessi che li consente in quel caso di crearsi il mondo ideale quindi ad oggi i paradossi le chiamiamole le assurdità che stiamo osservando per cui alcuni oggetti vengono pagati virtualmente più di quello che valgono nel mondo reale ci sono stati casi abbastanza eclatanti il fatto di comprare porzioni virtuali del pianeta visto che è stato rappresentato su una piattaforma il mappamondo e ognuno si può comprare un pezzo di strada un pezzo di città un pezzo di isola come diceva Luca ma da lì creare un nuovo business sappiamo le sfilate visto che parlavamo del lusso dell'alta moda molte case di moda hanno creato degli spazi di showroom virtuali creando anche delle collezioni virtuali per gli avatar in modo da poter sfilare sul metaverso ricordiamo alcuni concerti che sono stati dati su delle piattaforme di gioco ricordiamo l'esplosione del mondo dell'arte virtuale gli NFT che sono dei certificati univoci che in qualche modo danno un valore tangibile a qualcosa di immateriale ecco sicuramente oggi bisogna fare i conti con una trasformazione molto forte che sicuramente la pandemia ha accelerato e lo sappiamo tutti e ormai è conclamato ci stavamo arrivando probabilmente avremo messo qualche anno in più la pandemia ha anticipato molti fenomeni che oggi dei quali bisogna tener conto per capire le tendenze sia sociali che di consumi che di crescita di produzione che ci coinvolgerà nel prossimo futuro ecco ultimissima domanda per dottor Chiarella ovviamente legato alla tecnologia e non solo c'è un tema di fondamentale importanza che è quello appunto energetico si parla molto di transizione energetica legata anche alle tematiche ISG questo è il tema di gran lunga più pubblicizzato negli ultimi anni ne abbiamo parlato veramente alla lunga anche qui sulle fonti tecnicamente come operate la selezione dei sottostanti e cambia qualcosa post guerra in Ucraina sotto questo punto di vista bene grazie della domanda secondo me la risposta va declinata in tre punti il primo il più evidente a tutti e forse oggi ridondante ma vale la pena sottolinearlo ovvero la necessità è chiaro a tutti che dall'antropocene quindi dall'era dove l'uomo con le sue attività è il principale contributore delle emissioni di CO2 al mondo cioè dal 1950 ad oggi qualcosa si è cambiato questa esplosione nelle emissioni di CO2 non è sostenibile perché e questo invece ce lo dicono la Greta Thunberg di Caprio e qualunque forma di influencer sul tema oltre chiaramente a supporto di tutti i dati scientifici perché il surriscaldamento del pianeta non è sostenibile perché ha degli impatti la derivata seconda di questo surriscaldamento è la perdita di forme di vita la perdita di biodiversità effetti cataclismi che avvengono in giro per il mondo piogge torrenziali terremoti e insomma il rischio finale è la perdita e l'estinzione di ogni vita umana si è messo un freno questo freno è rappresentato dall'accordo di Parigi e quella volontà di aumentare la temperatura terrestre della quale 2050 al massimo di un grado e mezzo chi ha sottoscritto questo accordo in modo diverso un po' tutti i paesi l'Europa ci è arrivata anzi ha accelerato questo processo riducendo rispetto agli anni 90 del 55% le emissioni di anidride carbonica c'è chi ha messo il 2030 chi il 2040 il 2050 chi per ultimo come l'India ha identificato questo processo di riduzione delle emissioni a fine del 2060 del decennio del 2060 e quindi è un processo trasversale che ha sensibilizzato tutti ha sensibilizzato in primi governi il secondo passaggio riguarda il mondo industriale il mondo industriale sa benissimo che se vuole ricevere investimenti e finanziamenti e non fare la fine che ha fatto blockbuster o che possono fare i vari terrapiattisti deve adattare il modello devono adattare le aziende il modello di business a nuovi standard di sostenibilità ambientale che vuol dire emettere meno anidride carbonica sociale quindi dare un contributo alla comunità nella quale lavori e di governance con una differenziazione all'interno del consiglio di amministrazione nelle decisioni che si vanno a prendere per uno sviluppo sostenibile terzo e ultimo passaggio il ruolo degli istituti finanziari e qua riprendo la mia prima domanda cioè dico quando tutti gli astri sono allineati allora quella cosa accade se governi aziende operatori finanziari e cittadini lo pensano allo stesso modo allora i flussi di capitale vanno nella medesima direzione ed arriviamo al ruolo finanziario se per dare un numero partirei da un grande istituto Bordridge internazionale che identifica nel 90% 90% nel 2021 i flussi di investimento su fondi e strumenti sostenibili questo 90% a me così mi porta a due conclusioni la prima che è chiaro che tutto il mondo ormai ha capito che la direzione è quella della sostenibilità è capofila della sostenibilità cioè la transizione energetica quindi cambiare le fonti di approvvigionamento energetico il secondo punto verso il quale mi porta è che c'è un effetto green washing cioè se tutti si buttano insieme poi è difficile identificare chi lo faccia veramente e chi non lo faccia veramente in tal senso ci viene in aiuto una direttiva europea che io invito tutti gli investitori a seguire pedissequamente nonostante sia ancora in via di definizione totale che è una direttiva che crea categorie differenti di fondi di investimento in base al loro impatto ambientale sociale e di governance e lo fa sostanzialmente secondo tre articoli il 6 l'8 e il 9 dove il 9 è il non plus ultra in campo della sostenibilità e rappresenta i fondi impatto quelli che probabilmente rappresenteranno il futuro della finanza e quelli che aiuteranno a fare questo passaggio di transizione energetica a non pesare troppo sulle casse governative e dei privati grazie mille grazie mille per questa spiegazione altrettanto importante ringrazio i nostri ospiti Alessandro Arrighi Head of Retail Distributors Italy GAM e naturalmente Luca Chiarella Sales Director a PicTé grazie ad entrambi buon pomeriggio alla prossima occasione grazie a voi buona continuazione grazie arrivederci arrivederci noi ci lasciamo per brevissima pausa obbligitaria come sempre rimanete con noi sulle fonti segue l'apertura di Wall Street e non soltanto aggiornamenti su tutto ciò che accade in Ucraina rimanete con noi grazie a tutti grazie a tutti